Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like Avvistamento di un presunto fantasma in un cimitero militare di Neuville St. Vaas Secondo quanto raccontato dal ragazzo, la sagoma sembrava avere le sembianze di un soldato, in quanto indossava un uniforme dell'epoca e portava un elmetto. La sua presenza in mezzo alle lapidi del cimitero militare ha portato il ragazzo a pensare che si trattasse di uno spirito di uno dei soldati morti in guerra. Il ragazzo, incuriosito dalla sua scoperta, ha deciso di condividere la foto su diversi social media e forum dedicati al soprannaturale. La sua storia ha attirato l'attenzione di molti appassionati di paranormalità, che hanno analizzato l'immagine per cercare conferme di una presunta apparizione. Alcuni sono rimasti scettici, sostenendo che si potesse trattare di un semplice effetto ottico o di una persona reale che si era infilata nel cimitero per qualche motivo. Altri, invece, hanno supportato la teoria del ragazzo, affermando di credere nella presenza di spiriti e fantasmi nei luoghi carichi di dolore e tragedia come i cimiteri militari. La foto del fantasma è diventata virale, attirando l'attenzione dei media locali che hanno intervistato il ragazzo per approfondire la vicenda. La storia ha destato un certo clamore nella comunità locale, con molti visitatori che sono accorsi al cimitero nella speranza di vedere il fantasma con i propri occhi. Il cimitero militare di Neuville S.T.Vast è noto per essere stato teatro di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Molte persone sono convinte che l'enorme quantità di morti e sofferenze vissute in quel luogo abbia creato un'energia negativa che ha permesso l'apparizione di spiriti inquieti. Alcuni residenti del paese hanno raccontato di aver sentito strani rumori durante le ore notturne, come se ci fossero dei passi sulle lapidi o dei sussurri nel vento. Hanno perfino affermato di aver visto delle figure spettrali muoversi tra le tombe. Queste testimonianze hanno ulteriormente alimentato le teorie sulla presenza di un fenomeno soprannaturale nel cimitero. La foto scattata dal ragazzo è diventata motivo di discussione in ambito paranormale. Molti esperti del settore hanno analizzato l'immagine per cercare tracce di manipolazione o falsificazione. Tuttavia, finora non sono emerse evidenze ed è rimasta un mistero irrisolto. Alcuni ricercatori del paranormale, incuriositi dalla storia, hanno deciso di effettuare indagini più approfondite nel cimitero militare di Neuville St. Hanno organizzato sessioni di evocazione e utilizzo di strumenti per la rilevazione di presenze paranormali, come l'uso di videocamere termiche e registratori di fenomeni elettromagnetici. Durante queste indagini, alcuni dei ricercatori sostengono di aver registrato voci e immagini sospette. Hanno riportato anomalie termiche, come zone fredde in prossimità delle lapidi e onde elettromagnetiche anomale che non potevano essere spiegate da cause naturali. Tuttavia, gli scettici continuano a sostenere che tutto ciò sia frutto della suggestione e che queste presunte prove vadano prese con molta cautela. Il caso del fantasma nel cimitero militare di Neuville St. Vast ha generato un dibattito acceso tra coloro che credono nei fenomeni paranormali e coloro che invece li considerano frutto di incredulità e superstizione. Mentre molti continuano a interessarsi alla storia del ragazzo e all'immagine del fantasma, altri si chiedono se tutto ciò non sia solo una trovata pubblicitaria o una burla ben architettata. La verità sul fantasma nel cimitero militare di Neuville St. Vast è ancora avvolta nel mistero. Molti continuano a visitare il luogo nella speranza di avvistare lo spirito della figura misteriosa immortalata nella foto, mentre altri lo considerano solo una leggenda metropolitana moderna. Ciò che è certo è che il ragazzo di 14 anni, ignaro di ciò che avrebbe trovato nella sua foto, ha scatenato un dibattito e una curiosità che sembrano non placarsi. Resta da vedere se si riuscirà mai a trovare una spiegazione convincente a quello che molti considerano come un autentico incontro con il soprannaturale. Grazie. 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 Grazie.